Sono Ruggero Tagliabue, sono responsabile commerciale e comunicazione all'interno della Tagliabue Sistemi, un'azienda a condizioni familiare, siamo in 5 su 13. La nostra azienda si presenta a Sierc come azienda che offre un servizio chiave in mano nella realizzazione di sale riunioni e sale conferenze. Infatti lo slogan che abbiamo lanciato quest'anno è Your Contract Solution Partner, cioè il tuo partner ideale per realizzare meeting room dall'involucro alle tecnologie fino alla domotica di gestione. Presentiamo anche dei nuovi prodotti, un supporto per monitor di grandi dimensioni da 60 a 80 pollici. Grazie a tutti.